eccoci buonasera a tutti finalmente ci ritroviamo sulla pagina facebook di contorni di noir ben trovati e ben ritrovati tutti quelli che ci hanno sempre seguiti e che non vedevano l'ora che riprendessimo i nostri incontri online che sono felice di poter riprendere anche se ovviamente adesso si è un po smollata tutta la situazione per cui ovviamente ci sono molti incontri in presenza però mi fa piacere vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto dicendo che visto che è un appuntamento a cui tenevano proprio perché non tutti si possono collegare in questo orario molti si vanno a rivedere le presentazioni con calma e secondo me è una grandissimo regalo che voi lettori ci fate e io spero di fare anche a voi ma come si suol dire bando alle ciance perché abbiamo un uno scrittore a tutto tondo che è grandissimo posso dire sono felice di averlo questa sera sandrone da zieri buonasera benvenuto buonasera grazie dell'invito cecilia linda e grazie a chi ci sta seguendo e che sta cominciando a seguirci devo dire che comunque gli incontri virtuali a parte che vengono registrati ma hanno questo vantaggio che chiunque magari appena uscito dal lavoro si può connettere per esempio se voi state a milano è una delle cose più difficili da fare è organizzare delle presentazioni nei giorni sferiali che se le fai le sei e mezza magari chi lavora lì ci viene ma attraversare la città non viene fatica e non puoi mica farlo di sera nei feriali quindi è molto molto complesso fare le cose a milano per la sua dimensione e anche per la sua quantità di robe quindi assolutamente quindi siamo qui presentiamo questo bellissimo thriller che ho bevuto il male che gli uomini fanno arper collins italia è la casa editrice e vedo anche linda che presento e saluto buonasera linda collaboratrice di contorni di noir ciao ecco io ovviamente eh non non potrò raccontare tutto quello che eh Sandone Dazzieri ha fatto finora altrimenti va via tutto il tempo della puntata riassumo come si fa riassumo scrittore sceneggiatore giornalista attivista italiano una cosa che eh mi ha divertito è aver letto vegano e pacifista e ti ho detto non pacifista pacifico è un po' diverso sì il pacifico accetta il principio della legittima difesa diciamo eh il pacifico non attacca al pacifico non interessa fare la guerra al pacifico non interessa eh conquistare non interessa il potere però se gli rompi le scatole può anche arrabbiarsi basta che se non arriva sotto dice vabbè allora mi difendo ecco tutto questo è la è la è la questione quello che rende complesse situazioni come quella appunto ucraina russa in cui uno è un pacifista che io sono voglio la pace ovviamente allo stesso tempo con se tu se tu hai il diritto all'autodifesa io penso che tu ce l'abbia allora come faccio ti aiuto eh quindi però vuol dire la guerra è un casino non lo so è un casino allora io vorrei intanto sapere da te una curiosità visto che hai creato il personaggio del gorilla eh fantastico hai creato eh una trilogia che eh thriller fantastica anche lì dove hai creato due personaggi potentissimi Dante e Colomba ti chiedo uscito questo questo romanzo in quanti ti hanno chiesto sì va bene ok ma è il gorilla e Dante e Colomba devo dire più Dante e Colomba perché il gorilla ne ho fatto uno sì esatto non è uscito da molto con Rizzoli esatto scusate c'è un gatto che grattava la porta dello studio e allora il eh eh sì eccolo ecco scusate ciao anche al gatto noi amiamo i gatti quindi eh figurati se non li amo io puoi anche tenerlo qui date dicevi sì mi chiedono di rifare Dante e Colomba mi chiedono il gorilla mi chiedono altre cose la la questione vera che io cerco sì io penso le storie penso i personaggi sì che ho sto lavorato scusate il il stavo dicendo quando quando mi viene in mente una storia devo capire se questa storia adatta e a chi è adatta è adatta a un personaggio nuovo è adatta a un personaggio vecchio a quale personaggio la storia per esempio del del male che gli uomini fanno non andava bene per il gorilla né per 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 Dante e Colomba quindi è molto meglio in questo caso ho creato un personaggio nuovo adesso un paio di personaggi nuovi diciamo ehm a seconda della storia comunque quello che conta per me sono i personaggi quando li costruisco e li metto in scena devono avere un senso ed essere connessi alla storia che racconto molto spesso nelle nelle mie romanzi il parte del gioco è scoprire i personaggi i protagonisti cosa non cosa nascondono cosa non nascondono al di là di trovare l'assassino questo l'ho fatto con Dante e Colomba e ovviamente l'ho fatto con Jerry in questo caso con Itala e io continuo a pensare che sia la parte più interessante di un romanzo per scoprire fino in scoprire fino in fondo chi sono i protagonisti e conoscerli un po' la volta e così via questo si può fare ovviamente con personaggi nuovi ma anche con quelli vecchi a cui aggiungi delle cose non ci sarebbe qualcosa da raccontare il prossimo romanzo sarà un thriller ancora quindi non ci sarà non ci sarà il gorilla e e poi farò un piccolo libro non so bene quanto però è un true crime quindi in qualche modo molto diverso e però come come storia vera devo fare un thriller quindi non so bene chi sarà il protagonista perché la storia per adesso è ancora ambigua però la devo cominciare tra poco quindi tra un po' scioglierò la la riserva diciamo qualsiasi cosa scrivi che sia noir o che sia thriller fai sempre centro perché devo dirti questo in particolare in particolare devo dirti che ho amato tantissimo anche la trilogia di Dante e Colomba tantissimo il gorilla per motivazioni diverse ma questo è proprio un thriller di quelli che dici non vedo l'ora di arrivare alla fine c'è proprio una sequenza di azioni e poi anche l'empatia con i personaggi che comunque ti restano anche dopo aver finito la storia dico solo un commento di Don Rico sul Corriere della Sera un grande thriller del quale vi sembrerà di avere trascorso una stagione all'inferno e devo dirti che rende molto l'idea perché recensione di Codrigo del di Uccidipadre un grande thriller no certo però parlavo della vecchia trilogia quindi ah ecco benissimo bella sembra? assolutamente sembra perché tu mi hai detto tutte le robe buone che ha detto di te parlando di altri libri ah ecco vedi forse già il guardia quindi no ma si potrebbe benissimo adattare anche un ricco poi se non è che mi ricensisce e quando mi ricensisce non sempre mi dà dei bei voti beh appunto appunto per questo motivo credo che il suo parere insomma vediamo se si esprimerà anche su questo conti molto allora diciamo che intanto raccontiamo qualcosa della trama e lascio ovviamente raccontare a te perché come sempre è meglio che raccontino gli autori così sanno dove arrivare è complicato nel mio caso io sono veramente un cane a raccontare le robe che scrivo io mentre se le scrivo qualcun altro me la cavo bene perché dico guardate che bella cosa quando parlo dei miei libri dico bello allora c'è il modo neutrale una ragazza della provincia di Cremona viene rapita ha 17 anni e si chiama Amala figlia di una coppia di cremonesi illustri diciamo così almeno cremonesi a una di adozione perché in realtà di cittadinanza americana questa ragazza sparisce e dopo cominciano le ricerche le solite cose polizia, elicotteri eccetera e arriva la zia di lei la zia di lei è un avvocato che è stato all'estero per tanti anni si chiama Francesca e Francesca 30 anni prima aveva difeso un uomo che era accusato di essere una sorta di mostro di Cremona ovvero il Persico soprannominato così perché gettava le ragazze nel fiume le ammazzate tre poi è stato preso lei l'ha difeso ma è stato condannato e quindi lei era convinta che fosse innocente che non fosse quello giusto però è rimasta anche un po' disgustata da quella situazione in qualche modo la spinta anche ad andarsene dall'Italia andare in Inghilterra a cambiare un po' il ramo il ramo di lavoro però adesso le ritorno in mente perché c'è qualcosa in questo avvenimento nelle modalità del rapimento delle cose che le ricordano tantissimo quello che faceva il Persico questa cosa la preoccupa ovviamente comincia a fare domande in giro e cercare di capire se c'è una connessione mentre fa le sue piccole ricerche siamo ancora all'inizio incontra un altro personaggio che si chiama Jerry teoricamente un turista israeliano con bella barba, bionda e bei capelli lunghi e che viaggia con cinque cani malmessi ma veramente malmessi uno gli manca una gamba uno gli mancano gli orecchi uno gli manca il naso messi malissimo però ha una specie di simbiosi con loro li lascia a casa solo quando va a ammazzare qualcuno perché una delle prime cose che fa vi dico le prime cinquanta pagine quindi non è un grande spoiler comincia ad ammazzare quelli che trent'anni prima si erano occupati del caso del Persico chi è lui? perché lo sta facendo? chi lo sa? intanto in parallelo diciamo in parallelo nel romanzo anche se tutto è venuto prima c'è il terzo personaggio fondamentale di questa storia che si chiama Itala Itala è una poliziotta amministrativa cioè di quelle che fanno lavoro d'ufficio non va in giro non è nella mobile o cose del genere si occupa di carte cioè potrebbe essere l'approvvigionamento come i passaporti insomma quella roba lì però nel suo essere questa cosa qua abbastanza modesta come imprese poliziesche in realtà lei ha messo in piedi anche un giro di poliziotti che arrotonda lo stipendio sostanzialmente un po' rubacchiando un po' ricettando un po' vendendo quello che ricetta e si fanno corrompere fanno favori diciamo non arrivano mai a fare cose veramente pesanti però insomma chiudono occhi quando lo dovrebbero tenere aperti e insomma e questa Itala viene sostanzialmente incaricata di incastrare la persona che verrà condannata per essere il Persico quella persona che Francesca ha difeso però Itala è convinta che lo deve fare questa cosa qua deve fare quello che gli hanno chiesto proprio per il motivo perché lei è quello che è quindi deve stare dentro questo gioco altrimenti è finita ma è convinta che ha dei grossi dubbi che questo sia davvero il colpevole e in parallelo da qui in poi vediamo lei che a un certo punto decide di indagare cercare il vero Persico e dall'altra parte Francesca che scopre delle cose sul Persico nel presente con l'aiuto di Gerry qualche volta oppure in opposizione a Gerry altre volte questa è diciamo la cosa generale la vera eroina per me della storia è la ragazza rapita che ha il suo spazio nel libro perché non è solo una vittima tipo come un sacco di patate legata a un'olivia di braccio di ferro ma è una ragazza di 17 anni intelligente che reagisce alla sua condizione si trova in un posto orribile in una specie di grande scantinato dove il suo rapitore la tiene e non la diciamo così non ci sono molestie tipo sessuale o cose del genere lui la tiene solo lì non si capisce perché e è un po' la volta però lo capiremo intanto che lo capiremo capiremo cosa è successo nel passato cosa è successo nel presente insomma e tutto tendrà a incastrarsi ecco questo l'idea era raccontare una storia che avesse un arco di 30 anni ma non farlo in modo cronologico che si poteva fare ma come posso dire saltando dentro e fuori tra passate presenti in modo da tenere la tensione e passare informazioni al lettore in un modo o nell'altro scusate è stato lungo no no va benissimo va benissimo intanto mi piace questo questo gioco che fai chiamiamolo di scatole cinesi nel senso che c'è proprio una nello svolgersi proprio della storia è un continuo scoprire qualcosa capito che ti porta piano piano ma in realtà ti porta piano piano a un pensiero che almeno per quanto mi riguarda è sbagliato nel senso che sembra bravo eh ovviamente esattamente come tutti i scrittori spero di ingannare giocando però e quindi ammetto assolutamente no cioè il patto col lettore c'è sempre è bella questa idea che dici nonostante io abbia letto praticamente tantissimi thriller e tutto cioè c'è ancora qualche autore che riesce a stupirmi e questo è insomma come si suol dire tanta roba non è grazie non è così scontato Linda prendi complimenti ma eh prendi complimenti ma dico in realtà ce ne sono tanti magari non ti stupiscono del tutto però se una persona parte a raccontare qualcosa che gli preme davvero che la storia che ha in testa il suo punto di vista sulle cose e non cerca di andare dietro le mode di solito fa qualcosa che magari non funziona ma è originale io cerco sempre quella roba lì di raccontare delle storie che siano mie originali anche se poi spesso vanno a lungo strade che non sono tanto battute quindi mi devo inventare anche dei metodi di scrittura che non c'erano Mambelli Giada saluto tutti quelli che si sono collegati finora che sono stati tantissimi riporto questo commento io la adoro Sandrone Dazzieri grazie il caffè pagato Linda allora Sandrone io volevo partire iniziare proprio partendo dal titolo del libro che è appunto Il male che gli uomini fanno e riflettendo proprio sulla citazione di Shakespeare che c'è in deserto e anche su un bellissimo dialogo che mi ha colpito moltissimo all'interno della storia in cui tu fai dire a un personaggio che il male esiste ecco volevo chiederti pensando appunto a questo dialogo e al titolo a proposito del male quali sono gli aspetti del male che hai voluto indagare e poi portare alla luce in questa storia e venendo poi alla tua posizione anche più in generale che idea poi ti sei fatto invece tu del male ma più o meno le mie idee sono quelle che esprimono i libri su questo c'è cosa è di non fare dare giudizi morali o cose del genere di non giudicare i personaggi e lasciare che vengano giudicati dai lettori per quello che fanno per tutti i personaggi di cui scrivo anche i cattivi io ho comunque empatia perché sono parte di me io quando anche penso al cattivissimo che fa cose bruttissime quel cattivissimo è una parte di me e io devo riconoscerla perché il gioco del thriller è quello sì di costruire una bella storia gialla eccetera ma è anche quello di farci capire che in fondo tra noi e i mostri la distanza non è così enorme tra noi e i mostri è proprio a volte un capello una botta di fortuna delle scelte di vita siamo nati bene o cose del genere e mentre però certe cose che fanno certe cose che scattano nella loro mente le possiamo riconoscere anche se sono super eccessive rispetto a quello che faremmo noi questo lo capirete leggendo il libro a cosa mi riferisco ma in generale la mia idea di male è quella della mancanza di empatia per un momento in cui quello che tu fai non ti poni non ti poni non ti fai domande sugli effetti delle tue azioni rispetto alle altre persone quello è lì che comincia il male perché nella mia storia non so se ci sono grandissimi cattivi un paio ci sono forse ma capiremo che a dare via al tutto sono persone che in realtà magari hanno semplicemente voltato la testa hanno fatto un favore hanno gestito la propria la propria la propria carriera e così facendo hanno lasciato che un assassino rimanesse libero e che diciamo così il male cominciato trent'anni prima rimanesse un focolaio che poi diventa un'infezione nel nostro presente questo perché il male in qualche modo è un virus pensate se voi passate attraverso il male poi chiaramente il male ha molte definizioni c'è quello della Bibbia c'è quello di tante altre cose il male diciamo a fare del male agli altri e farli soffrire immaginate che tutti quelli che in qualche modo sono passate attraverso situazioni violente pensate ai bambini che vengono picchiati da genitori alcolizzati e roba del genere hanno delle enormi possibilità da grandi di diventare a loro volta alcolizzati e picchiatori di bambini questo purtroppo è una cosa che capita oppure pensiamo alle vendette trasversali pensiamo alle faide pensiamo alle guerre in qualche modo tutto quello che poi diventa il grande disastro parte da piccole cose che la gente ha preferito ignorare in cui qualcuno non ha fatto il suo dovere di essere umano e questo spesso è proprio la mancanza di empatia non pensi agli altri non riesci a metterti nei loro panni è un po' come quando la gente dice tagliamo il reddito di cittadinanza che sono tutti i fannulloni mandatele a raccogliere i pomodori e il discorso è ma tu ci sei mai andato a raccogliere i pomodori ecco questo è il senso e uno che ha empatia non dice queste cose o male gli dice secondo me non funziona questo sistema usiamo l'altro sistema ma non pensa andate tutti a scavare le buche mentre non mi faccio la mia bella vita è quello il male senti volevo appunto un attimino tornare ho due domande collegate intanto mi interessa approfondire il discorso Itala Caruso questa donna chiamata soprannominata la regina appunto per comunque per quello che poi si è riuscita a organizzare all'interno della struttura della polizia come l'hai creato questo personaggio come l'hai pensato beh diciamo che allora non dico che tutte le forze dell'ordine sono corrotte marce violente cosa ci mancherebbe altro però queste cose accadono regolarmente il fatto che dentro una caserma o dentro una questura dentro un commissariato ci siano dei poliziotti che si fanno gli affari loro è successo più di una volta che vengono e sono arrestati vengono che spacciano oppure che si portano le prostitute oppure che minacciano travestiti cose del genere ecco lei non fa queste cose fa altre robe ruva gestisce soldi scambia favori però è quella roba lì è quella roba lì che in qualche modo gli altri colleghi un po' sanno un po' non sanno un po' se ne fregano un po' gli dispiace però cosa faccio mi metto nei guai e denunciarli e così via e lei poi è molto brava perché ha una funzione c'è quello che voglio mettere in mostra è che lei questa questa itala pur essendo corrotta marcia eccetera col fatto che comunque le scaricano a lei tutti i peggiori elementi della polizia e lei li tiene li tiene in riga cioè gli fa fare delle cose ma non li fa esagerare e questo va benissimo per i superiori almeno per alcuni non tutti non solo e quindi sì questo personaggio diciamo la parte criminale diciamo è venuta facile poi ho pensato ovviamente a una madre che lavora vedova con un figlio e ho pensato com'è il suo rapporto col figlio com'è essere una vedova cosa ha fatto e ovviamente in tutto questo ho fatto un po' i conti col mio rapporto con mia madre perché sono diciamo da quando avevo quattro anni da quando avevo quattro anni sono stato orfano di padre perché mio padre è morto di cancro e mia madre ha dovuto arrangiarsi e ovviamente ha dovuto combattere la propria depressione la propria tristezza eccetera per gestire mia sorella e però questo comunque ha creato in me un forte rifiuto della famiglia delle cose mi ha portato ad andare via insomma ho fatto un grande ragionamento su tutto quanto anche se non è stato esplicito sono cose che le vedi dopo comunque ho parlato un po' di quello in modo metaforico del rapporto con mia madre io sono il figlio di Itala diciamo bella questa cosa poi comunque si sente a suo modo ha questo senso della maternità un po' particolare questo rapporto anche con la suocera che quindi mi è piaciuto molto perché è vero che appunto tu dici vedova quindi non ha potrebbe gestirsi in un'autonomia questo figlio invece c'è questa questa incursione diciamo della suocera che comunque vuole un po' controllare quelle che sono le che gestisce il figlio però odiando la nuora quindi c'è un problema proprio di e un po' capiremo anche perché a un certo punto la storia la cosa importante però per me era mantenere questa ambiguità ovviamente essendo un uomo maschio è difficile per me entrare davvero nei pensieri di una donna però ci sono personaggi femminili nei miei libri e ovviamente cerco di essere il più possibile come posso dire aperto a quello che davvero sono le impressioni che ho avuto da donne vere non creature diciamo fantastiche che esistono in un mondo solo di carta e il fatto di essere cresciuto con tre donne mia nonna mia mamma e mia sorella mi ha insegnato molte cose insieme con poi tutto il percorso politico il femminismo eccetera ho imparato un sacco di cose cerco di creare dei personaggi anche le donne ovviamente sono parte di me sono il mio lato femminile cosa farei se non c'è un personaggio che io tengo a distanza bisogna sempre un po' sporcarsi le mani bisogna anche imparare a farlo cioè entrare dentro le cose non avere paura di dimostrare parti di sé però anche questo è un mestiere che si impara col tempo più scrivi più impari a mostrare parti di te senza vergogna certo sempre relativamente appunto a Italia e anche al discorso corruzione che non voglio creare un dibattito politico però quello che mi interessa è il fatto di diciamo portare alla luce ma ormai è consolidato voglio dire che è la corruzione in Italia ormai è diventata la cinghia di trasmissione che ha portato dentro la società l'idea che il crimine sia possibile non come scelta esistenziale ma come scorciatoia per muoversi e ottenere non più marginale ma ormai endemica è la metamorfosi di una mentalità di un malcostume serve un dibattito approfondito sul ruolo della magistratura ma ripeto non voglio creare un dibattito politico però come la penso io non penso che il problema sia la corruzione io penso che il problema sia il potere in questo paese il potere ovvero quelli che avevano il potere in quel momento il potere non è una come dire un fantasma sono persone che esercitano comunque diciamo così il potere ha sempre gestito le cose a proprio interesse questa è la cosa che sia stato il potere economico invischiato con quello politico che fosse la mafia che corrompeva sempre la politica oppure viceversa che fosse la nuova imprenditoria che pagava le tangenti non so 40 anni cos'è che c'è stato vabbè degli anni 90 ho perso il conto e in generale questo fa sì che i giochi di potere siano detti dappertutto sono detti la magistratura sono detti la polizia e quindi una buona fetta di quelli che si muovono dentro questi ambienti quindi gli ambienti della giustizia diciamo così si muovono secondo i propri interessi cioè non dico che siano corrotti necessariamente però perché indagare su questa cosa è un casino lascia perdere oppure si passano gli dossier oppure li tirano fuori al momento opportuno se c'è uno scasso politico è chiaro che non è tutto trasparente cioè chi crede che tutto sia trasparente si dimentica gli ultimi 60 anni della nostra storia noi sappiamo ecco però quello che volevo fare non era dire ok ci sono i corrotti cattivi poi ci sono i buoni vuol dire che c'è un sistema molto difficile in cui è molto difficile stare dentro e fare la cosa giusta e Italia ci prova a un certo punto così come ci prova Francesca eccetera eccetera e fanno la cosa giusta a dispetto delle istituzioni che spesso non fanno la cosa giusta e questo è il vero problema io ovviamente questo l'ho sempre detto ho sempre denunciato questo problema questo problema del potere in Italia delle delle della qualcuno dice il deep state ma non è il deep state è il fatto che spesso essere diligenti viene punito e quindi la gente comincia a dire io me ne frego questa cosa guardate mi sta però una mentalità perché è un discorso talmente radicato che ormai fa parte del quotidiano quasi quindi questa cosa ce l'hai nella polizia come ce l'hai assolutamente nella polizia come posso dire nella posta ovunque c'è persone che hanno dei dichiarichi pubblici piccoli o grandi che siano pubblici piccoli o grandi che siano che ne approfitta questo è un dato di fatto che succede nel nostro paese abbastanza e non è mai troppo deprecato cioè spesso la deprecazione per queste cose nasconde una certa invidia e invece il problema di un sistema da riformare è questo e quindi l'agire dei bravi cittadini e così via rendere trasparenti le istituzioni sono tutte quelle cose che sappiamo io non entro in questo merito ma racconto delle storie in cui però i personaggi che fanno certe cose sono credibili per me nel senso questa cosa non è accaduta ma potrebbe accadere perché se voi andate a vedere anche non so le dinamiche del mostro di Firenze le indagini le cose adesso per un motivo di studio me le sto riguardando e mi metto le mani nei capelli a vedere cosa hanno fatto e lì non è che io sono convinto non è che ci fossero tutti che dicono noi sappiamo che è il vero mostro di Firenze e li copriamo no c'è stato disinteresse stupidità interesse ma voglia di mettersi in mostra ottusità che hanno portato ma sì che c'è stato un mostro il mostro di Firenze poi alla fine hanno preso uno anzi hanno preso i tre compagni di merende e non si capisce con gli altri morti come ma chi lo sa aspetta sono aperti ma perché è morto le parla ancora le parla ancora ora molte cose molte di quelle cose di cui si parla ancora perché non siamo soddisfatti del verdetto giudiziario che non so si parla ancora di cogna francamente non ho mai trovato un argomento interessante ma in questo caso è veramente una cosa ancora aperta cioè i misteri d'Italia esistono e una cosa piccola che ho notato probabilmente preparavo mentre scrivevo il libro studiavo un po' le persone scomparse perché un po' si parla anche di questo è capire che la possibilità che tu hai di essere ritrovato metti che ti sparisce tuo figlio che ha 16 anni la possibilità che si è ritrovato e dipende da chi vai a fare la denuncia per esempio perché se vai da uno che non c'ha voglia e che sia un carabiniero che sia un poliziotto che sia un finanziere quello che è un vigilo urbano che dice signora suo figlio ma dai sarà andato a farsi un giro hai già scappato una volta non si preoccupa oppure guardi che suo figlio si fa di droga perché questa cosa qui vuol dire che se c'è qualcosa da trovare se c'è qualcosa questa cosa non accade non è un caso che noi abbiamo alcuni casi ben presenti di presso di bambini scomparsi di ragazzi scomparsi ma in realtà sono molto di più mediamente 35 minorenni diciamo fine vent'anni non so però minorenni ma giovani perché poi le categorie statistiche allora tra tutti quelli che scompaiono che sono tanti migliaia ogni anno 35 giovani al giorno che sono scomparsi e che non riappaiono più 35 al giorno questo vuol dire che ogni anno 700 ragazzi 1000 ragazzi non so bene non tornano più a casa non tornano cioè non è che allora una buona fetta sono andati con uno dei due genitori da qualche parte un'altra fetta magari ha avuto un incidente sparito ma gli altri sono finiti in mezzo alla vita che siano prostitute schiavi del sesso vittime di pedofili ma è così e questo accade in tutto il mondo ovviamente ma i poveri ne subiscono di più ovviamente perché se tu sei il figlio come nel caso del mio libro di una personaggiata è più facile che mandano gli elicotteri subito se tu sei il figlio di una coppia di immigrati e magari hai già avuto problemi con la legge ma non per cattivire perché dico guardi signora il suo figlio sarà con i suoi amici ne riparliamo tra una settimana però magari tra una settimana salta fuori morto ecco queste sono le cose che accadono nel nostro paese e poi aggiungo e poi lascio spazio poi a Linda aggiungo una cosa una considerazione anche il processo mediatico che si fa appunto che si crea attorno a tutti questi casi come dicevi tu il mostro di Firenze il delitto di Cogne cioè non solo c'è appunto un'azione della polizia dove alcune volte c'è una certa superficialità una disattenzione chiamarla così forse voler concludere in fretta il caso perché comunque c'è anche una parte di pressione non indifferente dei media per cui ti costringono anche a voler dare per forza un colpevole il più presto possibile questo può accadere però in realtà anche lì tutto il circo mediatico che fa parte delle varie vanità che possono far parte di questa cosa qui non è quello che influisce davvero sull'indagine quello che influisce sull'indagine per esempio sempre occupandomi di delitti e parlando con medici legali così il problema è che magari ti si trova di fronte un magistrato medico legale che non capisce le cose da medico legale e quindi magari dà delle disposizioni sbagliate per esempio quando viene distrutto una prova non è che la distruggono per nascondere che hanno fatto la porchiera distruggono perché pensano che non serva più per esempio sul mosto di Firenze nessuno ha chiesto di fare l'analisi di certi non so di quello anzi sono pure spariti ah sì è vero che c'era della benzina sulla strada non l'abbiamo esaminata forse la miscela forse la benzina cose del genere questo è il problema le cose da questo punto di vista migliorano però rimane il nucleo duro del potere che nel nostro paese si muove per essere intoccabile e quindi oppure si fa la guerra la guerra tra poteri cosa del genere c'è gente a cui piace il potere questa cosa è una cosa che capisco molto poco perché veramente la famosa frase il potere logora chi non ce l'ha poi alla fine ma come persone no tutti quelli che li vedono che usano il potere che poi il potere può essere anche se non so caposezione sei uno stronzo poi c'è il capodatore che sei il caposervizio in un giornale o quello della cooperativa cioè non è che è solo dentro l'istituzione è meglio che ha il potere gode esercitarlo e pensa che questo lo renda un po' superiore agli altri è più salido quindi la mia idea è aboliamo il potere è un po' difficile è un po' difficile Linda dai torniamo al romanzo ovviamente io distrago perché non è che si possa dire ovviamente molto voi vi segnate le domande si 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 poi ce le ho già pronte per te se vuoi Linda ne possiamo fare una prima Linda poverina che non ha parlato una povera io ho ascoltato con grande piacere no guardati proprio collegandomi al discorso e riprendendo il libro quello che proprio a me piace di te che qui anche nell'intervista emerge è che tu hai questa capacità di entrare dentro le cose cioè qualunque qualunque tua storia anche quelle precedenti tu entri proprio dentro le cose entri nelle dinamiche entri nelle dinamiche del potere qui sei entrato nella dinamica della scomparsa degli adolescenti gli adolescenti a margine e entri anche nella psiche e nella psicologia di tutti i personaggi cioè non solo del cattivo ma anche mi viene in mente per esempio nella madre di Amala in Amala in tutti perché hai questa grandissima capacità di entrare dentro le cose è voluto un po' una stronza però non era voluto però però allo stesso tempo riconosco il trauma del rapimento della figlia però grazie quello che cerco di fare davvero la cosa difficile non è la trama ma è capire come quel personaggio mettiamo che io avevo una trama in testa tipo allora succede questo non so uccidono uno e qualcuno indaga e la domanda è ma perché questo qua indaga una cosa che c'era sempre nei gialli classici per esempio è la tizia che è in casa sente un urlo vede l'omicidio in strada la denuncia alla polizia la polizia dice guardi non lascia perdere si sbaglia e questo comincia a indagare ora nella realtà non succede non perché nessuno si mette a indagare su un omicidio se la polizia ha detto lascia perdere a meno che non abbia l'istinto di morte perché non è una cosa facilissima quindi devi costruire sempre delle storie e dei personaggi che abbiano ragione a fare quello che fa delle motivazioni credibili nella logica ovviamente del sistema mondo del romanzo e questo vuol dire anche creare delle psicologie credibili perché io posso fargli fare quello che voglio però se risultano dei personaggi non sai perché fanno le cose sbalestrati eccetera non ti affezioni non 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 solo non ti affezioni ma neanche capisci cosa sta accadendo davvero a livello diciamo più più intimo questa cosa io ci tengo parecchio della verità mi piace raccontare creare dei personaggi che poi alla fine diventano come degli amici immaginari e rimangono lì cioè il gorilla rimane lì con tutta la sua pletora di amici Dante e Colomba in questo momento sono in crociera vicino al polo Gerry non ve lo posso dire parliamo di Gerry allora un pochino come come lo hai caratterizzato come è nato molto particolare per certi versi non so forse questa è una mia impressione smentiscimi anche tranquillamente ha alcuni tratti del socio sì perché è un psicopatico fondamentalmente diciamo la cosa che noi capiamo di Gerry è che è un simpatico psicopatico però capiamo a un certo punto è una persona di cui che ti ispira subito fiducia in qualche modo lui riesce molto bene a manipolarti a sembrare simpatico e tutto quanto il problema è che quando ti dice non ti preoccupare non ti farò niente può essere vero ma invece magari ti ammazza e ti giri è il problema di Gerry e quindi Gerry è come posso dire è un grande archetipo è l'eroe che arriva misterioso che fa cose strane non capisci perché ha delle motivazioni che non sai ha una storia che non sai e questo per me era importante cioè volevo creare un po' questa figura che arriva e su questo per capirvi che tipo di di struttura ho cercato di dare al romanzo perché non l'ha letto e l'idea era di costruire una storia in cui l'eroe parlo del presente perché poi ovviamente la storia di Amala l'Italia vanno in parallelo però in cui la storia del presente arriva una volta che è costruita la storia ci sono i personaggi eccetera arriva una sorta di eroe e arriva dopo come accadeva non so se vi ricordate qualcuno di voi ha mai visto Derrick sì sì non avessi tre puntate in vita mia perché forse io una devo dire no erano anche fatti bene perché mostravano soprattutto quelli più vecchi degli spaccati della vita della Germania degli anni 70 mi ricordo queste cose qua era abbastanza esotico per il tempo e lì tu vedi tutta la dinamica e Derrick arriva tipo dopo 20 minuti perché prima succede tutto poi arriva Derrick e si occupa del caso è un po' come anche Colombo se volete c'è l'assassino che uccide e poi arriva Colombo ecco a me piace questo c'è l'idea dell'eroe che arriva come una bomba dentro una situazione normale e la ribalta diciamo quindi se farò mai un seguito del male il Jerry non comincia con Jerry spero che sia ancora vivo non ve lo posso dire non si sa diciamo non comincia con uno dei personaggi fissi che possiamo immaginare di questa saga che non sono morti ma comincia cominciano con dei personaggi nuovi che costruiranno una situazione in cui poi la cosa accadrà è un altro modo di raccontare delle storie cerco sempre dei modi nuovi un po' perché ho paura che se non cerco dei modi nuovi poi tendo a ripetermi mentre cerco sempre qualcosa di diverso ma per il pubblico visto che questi romanzi questi thriller possono anche essere seriali ma ognuno di loro deve essere un viaggio cioè non è l'avventura del commissario che risolve un caso e non te ne frega niente del caso te ne frega però di lui quello che mangia se si fidanza eccetera quindi in questo caso volevo invece ogni volta che scrivo un thriller quella storia lì deve essere un viaggio per il lettore senti farei la domanda di Deborah Alice Riccelli che saluto Sandrone sulla tua pagina Facebook ho visto che hai fatto lavorare l'intelligenza artificiale per dare un volto a uno dei tuoi personaggi ma anche diciamo partendo dal titolo anche partendo dal titolo non so se potete far vedere le foto qui no purtroppo no comunque assomiglia se andate sulla pagina di Sandrone lo vedete anche su Instagram o Instagram andate su Sandrone Dazzieri ci sono assomiglia a come lo hai pensato scrivendo di lui e poi ero curioso di sapere se lo hai fatto solo per un personaggio o anche per tutti gli altri allora siccome è un processo abbastanza lungo per adesso l'ho fatto solo per Jerry e ho fatto un Dante però adesso siccome sto commuovendo questo libro qua non voglio creare casino ho aspettative strane nei lettori comunque l'idea è questa come sapete si lavora sull'intelligenza artificiale che cos'è l'intelligenza artificiale? in realtà sono degli enormi database di comportamenti connessione eccetera eccetera che fanno sì che a un determinato impulso una determinata richiesta da parte dell'utente che sia una risposta che si abbia fatto da un essere umano classicamente se voi andate sul sito di qualche non so compagnia elettrica compagnia telefonica e così via c'è l'assistente virtuale cliccate sopra e lei dice ciao come posso aiutarti e tu gli fai un paio di domande e se questa cosa rientra nel database lei ti risponde se non rientra dici un attimo che chiama un essere umano più o meno è quello che succede queste ai sono ovviamente milioni di volte più complesse e oltre avere delle risposte preconfezionate sanno in qualche modo mettere insieme degli elementi e creare della roba nuova è questo che fa sì che vengano chiamate intelligenza artificiale quindi nel momento che io scrivo descrivo un personaggio loro in base alla loro memoria che è enorme perché frugano internet eccetera mettono insieme degli elementi e li disegnano cercando di dare una risposta a queste domande cioè dire tizio fatto così cos'ha e loro naturalmente essendo dei computer anzi dei software e non degli esseri umani a volte anzi la maggior parte delle cose che vengono sono strane che ne so può essere un uomo con tre gambe per esempio oppure che c'ha l'istituto dice un uomo con una macchina fotografica magari questo al posto dell'occhio c'è una macchina fotografica perché fanno un po' di casola e quindi beccare la cosa giusta e non è facilissimo e per adesso appunto l'ho fatto solo per per Jerry perché aveva delle caratteristiche abbastanza semplici capelli lunghi a barba eccetera e ho dato un po' di descrizioni il risultato devo dire è abbastanza interessante nessuno di loro è come ovviamente ah ok Jerry ma tutti loro hanno qualche cosa che potrebbe essere Jerry un'espressione il pelo non lo so queste cose e col titolo anche allora ho messo il male che gli uomini fanno e sono venute le robe un po' cupe allora ho aggiunto il male che gli uomini fanno vicino al fiume di notte allora il male che gli uomini fanno vicino al fiume di notte con un pesce allora devi fare dei lavori per buttare via quello che non ti piace e poi trovare il modo giusto e quindi alla fine è venuto fuori questo questo Jerry lo farò anche per gli altri personaggi lo farò anche per magari adesso volevo ricostruire la cantina di di dove è nascosta dove è prigioniera Amala ma è come avere un grafico ubriaco a tua disposizione mettiamola così è così senti ma invitiamo tutti i lettori una volta finito il tuo romanzo di lasciare un loro parere sulla tua pagina come hanno rispetto diciamo visto che anche il personaggio di Jerry abbiamo visto varie foto ripeto non posso qui sono disegni anche quello che sembra una fotografia ecco allora questi disegni magari lasciate un commento sulla vostra impressione su quello che è il personaggio che avete pensato avrei altro voi mettete tutto su Instagram io poi lo linko lo metto su Facebook vi dico su Instagram per un motivo semplice Facebook nell'ultimo periodo è diventata veramente difficile perché tra spam quando superi un certo numero di follower cominciano a arrivarti le richieste che non esistono e botte le cose io sono pieno di porcherie tipo nella posta nelle robe quindi faccio molta fatica ma a volte vedo dei messaggi dopo sei mesi quindi Instagram invece è un po' più andate su Instagram sì perché non ho i follower della Ferragni per cui non è che tutti i bot del mondo convergono su di me stanno cominciando proprio su Twitter ecco Twitter che non frega niente a nessuno di Twitter perché nessuno ci dice no vabbè non è vero io ci sono quindi no no non interessa ma tu dici a meno seguito e non c'è meno interesse per fare per fare questo tipo di cose il business proprio il martellante su TikTok non ci sono perché penso che sono troppo vecchio ma se ci sono delle delle ascoltatori follower follower che vogliono mettere loro un commento su TikTok li ringrazio io ho un account ma francamente dopo aver visto dei miei coetanei che erano anche più anziani su TikTok i ragazzi sono qua e voglio spiegarvi che cos'è un giallo che posso anche fare magari però faccio già abbastanza il cretino Linda Sandro una cosa che volevo chiederti perché vedo che il tempo corre allora questo romanzo ha un aspetto davvero particolare e che è l'elemento delle vespe perché tu hai inserito l'elemento dell'insetto che l'hai inserito nella storia è un elemento fantastico che crea ansia che crea inquietudine ma che comunque incolla perché spingi anche poi a cercare di capire come funzionano proprio come vivono ecco volevo chiederti come è nata l'idea di inserire questo elemento nella storia e perché secondo te l'elemento dell'insetto ha questo ruolo così particolare nel thriller perché crea sempre ansia nel lettore anche inquietudine prima vi dico una cosa divertente una scemenza in tutti i miei libri quando ho cominciato a scrivere Uccidi il padre inizialmente si chiamava L'uomo dei silos poi mi hanno detto sembra la canzone di le storie tese vabbè è diventato Uccidi il padre qui ovviamente l'uomo delle vespe titolo di lavorazione poi è diventato il male che gli uomini fanno per dirvi perché le vespe io adoro tutti gli animali e questo vuol dire che ho anche degli ottimi rapporti con gli insetti per lo più che siano ragni soprattutto vermi vari non ho problemi le vespe mi stanno un po' sulle balle perché ho avuto un'infestazione di vespe nella casa delle Marche praticamente pochino anche punto e quindi ho pensato che effettivamente è una una bell'arma la vespa perché la vespa è piccola ti punge ti fa malissimo se sono dieci magari ti viene pure uno cioppone e poi soprattutto sono parzialmente carnivore una cosa che dico sempre è che le vespe in sé mangiano il polline non mangiano la carne sono come tutti gli insetti di quel tipo non solo producono anche una sorta di miele ma che usano tra di loro per scambiarsi baci affettuosi ve lo dico malissimo però le loro larve mangiano le proteine hanno bisogno di proteine per cui loro prendono piccoli insetti e li fanno mangiare le larve e una volta ho visto con i miei occhi una vespa traforare una fetta di prosciutto e portasse via un pezzetto che immagino e quindi ho pensato che è un buon modo per far sparire i cadaveri con il tempo magari ci vuole un po' di pazienza è riuscito a incuriosire tutti quelli che ci stanno ascoltando sicuramente senti dimmi ci deve essere sempre una parte che fa paura dentro questo libro sostanzialmente ci sono tre tonalità che potrei definire così uno è quella noir che è del passato Itala fa un'indagine un po' più noir che thriller per quanto il finale non sia più thriller che noir nel presente è un thriller perché c'è questa caccia all'uomo la caccia alla ragazzina che rischia di morire e e poi c'è il rapimento della ragazzina che ha quel sapore vagamente come posso dire horror senza esagerare cioè non c'è sopranaturale non ci sono splatterumi pochi ma l'idea che tu sei rinchiuso in una cantina incatenata con un con un con un killer ti dà subito una dosfera horror ecco quindi mi piace passare dal dal sapore all'altro in modo tale che uno si diverta perché di base io scrivo dei romanzi che devono essere di intrattenimento poi se c'è un significato questo deve venire dopo prima non si deve appassionare divertirsi eccetera se no fai un saggio senti cambio totalmente argomento e parlo solo un secondo del gorilla partendo dal racconto che hai un racconto di un'antologia intitolata indaga detective tra cui c'è Paolo Regina che ho visto collegato che saluto è lui in questo in questo libro nella quale in questa antologia fai omaggio a Andrea Pinketz e il tuo racconto che tra l'altro mi sono divertita molto il codice Grattevinci dove Pinketz aveva creato il suo alter ego Lazzaro Sant'Andrea come tu hai creato il tuo alter ego il gorilla mi piace pensare che questi due personaggi si incontrino cosa si direbbero secondo te potrebbero andare d'accordo o sì perché d'altronde io andavo d'accordo con cioè Andrea era mio amico io volevo molto bene e e e quindi in qualche modo c'è sempre stato un dialogo tra di noi che poteva essere il dialogo che c'era tra il gorilla e lui lui aveva come posso dire andava sempre a letto tardi no a differenza tra lui e Proust diceva che andava sempre a letto tardi e quindi passava sempre le notti in giro cioè era un viveur come si dice a differenza mia che non lo sono per niente ho fatto la mia dose di cazzate ma fondamentalmente in questa fase della mia vita esco poco non vado a letto presto questo lo ammetto però non ho più questa vita vado in giro per i bar ubriacarmi cosa del genere non mi interessa molto più tanto e quindi c'era questa differenza tra di noi lui era totalmente aveva un suo stile di vita che avveriva prima di tutto mentre io cercavo una sorta di disciplina nel mio lavoro lui invece era così ma lui era un genio io non lo sono però quando ho fatto questo racconto mi sono ripreso tutti i romanzi di Pinkerts che avevo già letto in qualche modo forse uno ma non lo mancava ma li sono riletti in fila e ho visto dal primo l'Avizio dell'Agnello fino all'ultimo forse era Strizza ma non lo mancava e devo dire ho trovato uno scrittore pazzesco allora se tu lo incaselli solo dentro il giallo ci sta e non ci sta perché molto spesso i suoi romanzi partivano per la tangente andava altrove se invece lo prendi come un letterato un busi diciamo allora capisci che lui aveva molte cose da dire però purtroppo diciamo l'industria editoriale e lui come carattere non sono mai riusciti a tirarlo davvero fuori e comunque ho voluto fare una storia come l'avrebbe fatta lui e quindi ho cercato il suo modo di raccontare il suo modo di parlare il suo tipo di personaggi il suo modo di reagire alle cose eccetera il suo rapporto con le donne molto diverso dal mio e e ho pensato questa storia che è partita da una storia vera cioè di una signora anziana a cui aveva fregato un Gratta e Vinci e e dall'idea del Calembur piccheziano ah poi c'è da Vinci Gratta e Vinci e no mi ha fatto molto piacere mi ha fatto molto piacere poi non so poi gli amanti di Pinker se l'hanno riconosciuto o non l'ha riconosciuto però mi piace mi è piaciuto farlo sotto falsa identità molto carino Linda allora Sandro io volevo dirti parlando con te in questa intervista ho la stessa sensazione quando leggo i tuoi libri nel senso che poi apri finestre nella testa delle persone questa è una cosa bellissima ti chiedo da grande lettore di fumetti che sei stato e lo sei tuttora un grande lettore di fumetti e da grande cultore appassionato sia di fantasy ma che di fantascienza volevo farti una domanda rispetto alle generazioni nuove generazioni quindi ripollegandosi anche al discorso di TikTok e all'utilizzo del digitale ti chiedo un parere secondo te il digitale ritieni che possa questo uso eccessivo anche del digitale possa minare i meccanismi della fantasia no io credo che questa domanda in tutte le epoche storiche non ce l'è posto la dimostrazione è che no la questione vera però è che il non so come dire il il mezzo lettura o scrittura dei tempi e delle pergamene era molto complesso richiedeva tempi lunghi era una grande devozione quando si è arrivati alla stampa caratteri mobili e alla stampa contemporanea leggere è diventato più semplice è diventato è diffuso è diventato un modo di stare al mondo noi ci dimentichiamo che leggere non è perché noi siamo tutti forti lettori diciamo ma leggere è mica facile se voi leggete poi la storia anche della lettura ci sono un po' di libri scopriamo che leggeramente non è una cosa recente cioè non è una cosa che nasce con la lettura si legge a mente da molto poco prima si leggeva ad alta voce anche da soli questo era un altro modo di rapportarsi alle cose quindi a seconda dello strumento poi le cose cambiano diciamo il digitale ti permette una connessione immediata e velocissima e la possibilità del multitasking cosa che invece il libro non ha il risultato dal multitasking è che crea una difficoltà di concentrazione più difficile perché nel momento in cui tu sei connesso sei molto connesso in qualche modo il mondo che continua a muoversi e cambiare accanto a te ti impedisce di concentrarti sulle tue idee sulla tua fantasia in qualche modo consumi molto di più quando fai lo scrittore il tuo lavoro non è quello di consumare l'immaginario degli altri anche ma soprattutto di creare dell'immaginario e questo vale per tutte le forme di narrazione che sia uno film che sia una cosa nel momento in cui tu non riesci a creare più perché c'è diciamo così una quantità di stimoli esagerati non riesci a focalizzarti lì comincia il problema però ogni mezzo poi trova la sua soluzione il libro digitale per me è diventata per esempio la versione scaricabile dei libri legali non sempre è una cosa per me molto comoda e ho tanti libri in casa e così via però non sono un bertoevo che si aveva un appartamento apposta per i libri a un certo punto non ci sta più e quindi ho cominciato a comprare ma soprattutto per le cose di consultazione il digitale e questo mi dà la possibilità che di notte se non ho niente da leggere posso comprarmi un libro averlo al volo e continuare ad andare avanti a leggere posso ricercare per esempio tutti i libri di un certo autore trovarli comprarli eccetera posso trovare tutti i fumetti del mondo metterli insieme leggermi questa è una cosa no la fantasia è stimolata la difficoltà vera è che siccome il presente è così veloce che cambia ieri guardavo come funziona Oculus per la meta Oculus per la realtà virtuale ho visto che ci posso costruire uno studio virtuale in cui non so nello spazio in cui c'ho dei computer enormi che posso scrivere l'isola l'alto dal mondo e qui dà cazzo questo è interessante potrei farlo ogni tanto adesso non è il casino ora no però anche questo porterò in generale il mondo cambia molto velocemente e l'ultima innovazione vera che ti ha fatto capire il futuro è stato col cyberpunk che questo lo dico quindi negli anni 80 Gibson Sterling e poi quelli che sono molti dopo che dicono guardate tra un po' tutto il mondo sarà collegato ed è vero non ci sono stati nuovi paradigmi da allora molta scienza molta fantascienza è diventata scientifica molto all science come si dice e più che prefigurare mondi futuri prefigura cosa succederebbe se funzionasse un computer quantico e allora lo spostamento cioè è complicatissimo infatti quasi tutti quelli che scrivono questo tipo di fantascienza sto pensando a Greg Higan e altri sono degli scienziati duri come si dice cioè che si occupano di cose toste perché è l'unico modo per andare oltre oppure liberare la fantasia ma il futuro in cui ci sarà la grande civiltà galattica e pacifica vivere in mente in questo momento è un po' fatica e questo è un altro dei problemi senti poi tra l'altro volevo comunque avvisare i lettori di andarsi a recuperare il podcast in tre puntate intitolato Il Persico indagine sul mostro di Cremona proprio che prende tratto dal romanzo di Sandro Nel Dazzieri lo potete ascoltare su Spotify e su streaming e mi sono andata a sentire e lo trovo veramente fatto molto bene e io non c'è tu un tubo questo l'ha fatto tutto HarperCollins che a me ha chiesto ovviamente però un po' mi ha chiesto ti va di leggere di fare infatti ci sei tu insomma che parli non avevo il microfono tutto registrarlo male infatti si sente c'è una voce che esce sembra che sono nel gabinetto ma non è così però è fatto molto bene che sembra vero cioè a un certo punto sembra il classico podcast che parla di un caso vero però che è il caso del Persico che non è assolutamente vero il mio tentativo è anche quello di diffondere nel mondo la parola Buccalone e come sapete in Cremonese no in Cremonese non lo sapevo l'ho scoperto con questo libro da noi si dice Buccalone credo quello anche a Milano diciamo però il Buccalone da noi si dice lo stupido ma in realtà è un pesce è un pesce della grande bocca il Persico Trota e allora a Cremona si chiama Buccalone però sembra anche un nome inglese perché si scrive Buccalone e adesso se questo libro quando verrà tradotto questo libro ci saranno delle persone che leggeranno questa parola Cremonese pensando che sia chissà che misteriosa parola italiana invece una cosa cremonese vuol dire il pesce persico e questa cosa mi divertiva molto io credo molto che il locale possa dare molto alla narrazione purché non diventi il la guida turistica c'è molti romanzi gialli sembrano delle guide turistiche e dopo cinque minuti che mi descrivi dopo due pagine che mi descrivi come si fanno gli spaghetti e la chitarra di solito mi sono già rotto le palle scrivo altra roba quindi non voglio fare quel tipo di roba lì però portare quelle parti sconosciute nel nostro paese quando ti traducono nel mondo è bello a me piace poi adesso ho fortuna mi stanno traducendo un po' di più un po' di là però mi piace senti io avrei ancora tantissime domande ma ovviamente abbiamo sforato l'ora e non io non voglio poi devo cucinare credo esatto no è vero adesso un po' arrivo a mio amore ecco allora volevo fare una domanda che viene fatta dal pubblico ovviamente sono tutti interessati a sapere se Dante e Colomba torneranno in un prossimo thriller quindi lì ok non diciamo nient'altro sì torneranno torneranno non so se il prossimo romanzo quello dopo però torneranno e sì questo libro segna l'inizio della mia collaborazione con HarperCollins il primo remondadori mi piace molto come ragiona HarperCollins perché fondamentalmente sono abituati a ragionare in termini molto poco locali e quindi organizziamo una notte noir con tanzieri dice Adriana Pasetto perché no va bene va bene ma certo quando volete il mio sogno è fare sapete quelli che rispondono alla radio di notte i DJ ho provato anche a farlo un paio di volte non chiamavo a nessuno è stato tristissimo ma mi serve quello che dà i consigli sì devi fare così senti ma certo no allora se ti va proprio due secondi ti faccio cinque domande alla Marzullo che rispondi però tac tac e però prima di questo ovviamente vogliamo sapere se ci sarà un seguito vogliamo dirlo ai lettori i libri sono io ho fatto una trilogia come sapete questo libro nasce e muore comincia e finisce tutti i personaggi che rimangono in vita altri che muoiono insieme alla storia può darsi che questi personaggi tornano poi li rimasti in vita non do garanzie non lo so dipende da voi sapete leggetelo 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 conoscete Giurado Giurado sì è un grande è un grande scrittore spagnolo ha scritto la la regina rossa ah sì caspita come no è un mio amico e il e lui ha scritto una delle cose più ruffiane che non vi ho mai detto alla fine dei ringraziamenti dice ma ci torneranno i miei personaggi e lui dice ne parlai una volta con Tizio e mi disse io l'importante è che le lettrici soprattutto le lettrici facciano pubblicità al tuo libro e allora vedrai che le cose crescono e lui scrive alle lettrici e dice cari lettrici io so che ognuna di voi può trovare dieci nuovi lettori se farete così probabilmente torneranno i miei personaggi quindi se questo libro va bene potrebbero tornare se questo libro mi arriva tutto come rese in casa a cui devo dare fuoco non credo siamo sicuri che andrà benissimo su quello vero Linda? assolutamente ho ferro ragazzi ah non si dice superstizioso però dopo tanti anni lavorare in Cine TV ah ok va bene dai cinque domande così proprio veloci veloci tu credi in quello che fai o fai quello in cui credi faccio quello in cui credo si smette di viaggiare con la fantasia quando si invecchia o si invecchia quando si smette di viaggiare con la fantasia la seconda nei tuoi romanzi è più facile che l'amore si tramuti in odio o l'odio in amore l'odio in amore è più difficile realizzare una buona idea o convincere gli altri che l'idea da realizzare è buona non mi ha interessato convincere nessuno la vita è un giallo o i gialli aiutano a vivere meglio questo è difficile la vita è un giallo dipende dalla vita effettivamente i gialli aiutano a vivere meglio sì come tutti i libri fondamentalmente quindi sì i gialli aiutano a vivere meglio allora senti io ti ringrazio di tutto veramente di questa chiacchierata ringrazio Linda Chesser che ci ha accompagnato grazie io invito davvero tutti a leggere il male che gli uomini fanno di Sandrone Dazzieri Harper Collins Italia grazie ancora per questa chiacchierata Sandrone e buona cena grazie per il sostegno al mio libro e grazie assolutamente assolutamente ti ringrazio e insomma siamo sempre qui grazie buona serata a tutti quelli che sono intervenuti grazie ciao 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 ciao